Il Partito Democratico è su TikTok ma abbiamo deciso di farlo non in modo ridicolo ma in modo serio perché TikTok è una cosa seria, per cui abbiamo deciso di farlo con Alessandro Zan che ieri ha fatto un'uscita su TikTok che è stato un successo enorme perché TikTok non è un luogo di cabaret, non è un luogo di varietà. TikTok è il luogo nel quale si parla con persone, i più giovani, che vogliono sentire degli impegni seri e chiari e questa logica di mettere sempre tutto in vacca non ci appartiene, non ci appartiene alla logica della serietà, della speranza e della fiducia.